sono qui con alber metalli in collegamento con l'argentina alber è autore del libro tierra promettida storia di una storia pubblicato da edizioni di pagina che presentiamo oggi benvenuto alber grazie il libro è un affresco dove emergono personaggi pubblicazioni amicizie grandi eventi politici ed ecclesiali latinoamericani che hanno visto la nascita di comunione e liberazione nel nuovo mondo alber perché la scelta del titolo tierra promettida e guarda in ballo c'erano altri titoli uno era la terra del futuro che è un'espressione che usa il protagonista di queste pagine cioè don giussani e un altro ancora era prolegomeni di una nascita un titolo difficile che faceva riferimento ai tanti avvenimenti che hanno preceduto e direi preparato gli inizi formali di comunione e liberazione in argentina e anche in america del sud un altro ancora era l'alba della zalea è un titolo un po romanzesco che fa riferimento a un episodio che racconto nel libro poi un amico mi ha proposto tierra promettida e mi è sembrato appropriato con una bella fotografia che è quella di tanti ragazzini che corrono su una spiaggia sono protesi in avanti che l'idea che vuole trasmettere il titolo è quello di un orizzonte grande che a un certo punto si spalanca è quello di una tensione ad andare a entrare a penetrare in questo orizzonte stiamo parlando dell'argentina e dell'america del sud e quindi i titoli erano questi tierra promettida al vantaggio che è un titolo spagnolo che si intende perfettamente non ha bisogno di traduzione per cui l'ho mantenuto e l'editore l'ha mantenuto anche nell'edizione spagnola che è uscita in questi giorni tierra promettida e tierra promettida. Perché Don Giussani guardava con sentimento così appassionato al sud America? È una delle prime aree geografiche con il Brasile in cui ha messo piede io ne parlo nei primi capitoli che raccontano proprio il suo viaggio del 1973 in Argentina per visitare delle monache che erano venute qui ad aprire un monastero monache di Vitorchiano in Italia che a un certo punto della loro storia appunto nel 73 decidono di aprire una fondazione trappista trappense in Argentina e partono in dieci e in questo gruppo delle dieci fondatrici ci sono anche alcune tre che in qualche modo avevano un rapporto con Giussani che era proprio importante se non decisivo per la loro stessa vocazione per cui lui dapprima le segue a distanza poi decide di viaggiare, si imbarca, fa la traversata oceanica e arriva in Argentina e va in questa località a 300-350 chilometri da Buenos Aires e questo è un po' il primo momento di Don Giussani in America Latina, tolto il Brasile dove invece la presenza già di persone del movimento di comunione e liberazione c'era già da diversi anni. Qual è il ruolo di Don Francesco Ricci che le definisce il San Paolo dell'America Latina nella nascita delle comunità di comunione e liberazione? È una figura geniale Don Francesco Ricci, il San Paolo dell'America Latina è un'espressione un'espressione che usa parlando di lui un uruguaiano che lo conobbe e lo stimò e dice si chiama Elvio Lopez e dice che lui non si identificava con nessuna cultura ma tutte le inverava dal di dentro. Era il San Paolo dell'America Latina ma il suo orizzonte era il mondo e quindi questa espressione io l'ho ascoltata da lui e mi è sembrata una definizione appropriata perché se qualcosa caratterizza la vita di questo sacerdote romagnolo, era di Forlì, è proprio l'impeto missionario e in questi anni, negli anni di cui parlo, viaggiava continuamente, passava dai paesi dell'est d'Europa che erano sotto regime comunista ai paesi dell'America Latina che erano in gran parte sotto dittature militari, con governi militari e lui seguiva tanti rapporti e anche le prime comunità di comunione e liberazione che nascevano. Il libro Tierra Prometida si conclude e praticamente inizia con Giussani, si conclude con Don Ricci che in un punto della periferia di Buenos Aires, un quartiere a Vejaneda, un quartiere grande e presenta proprio comunione e liberazione assieme ai primi sacerdoti che vennero dall'Italia. Da quel momento, diciamo così, nascono le prime comunità e si diffondono nella grande Argentina. Come mai negli anni Ottanta in America Latina c'era molta attenzione al pontificato di Giovanni Paolo II? Ma io direi per tre ragioni. La conferenza di Puebla che Giovanni Paolo II inaugura coinvolge molto la chiesa di queste latitudini e poi la forte provocazione che viveva diciamo il cattolicesimo latinoamericano negli anni 70-80, penso alle teologie della liberazione e anche l'accenno posto dal pontificato sulla cultura e su una forte presenza sociale. Insomma, Giovanni Paolo II si poneva fuori dalla dicotomia reazione, rivoluzione, come la chiama il filosofo Massimo Borghesi. Quindi queste tre cose che ho enunciato, Puebla, la conferenza di Puebla, il cattolicesimo latinoamericano davanti alla sfida delle rivoluzioni e delle dittature militari e l'urgenza di una presenza cattolica forte, queste tre cose direi che tendono, suscitano l'attenzione di grandi settori cattolici dell'America Latina verso il Papa. E quindi ti riflesso verso Comunione e Liberazione perché il Papa Giovanni Paolo II valorizzava molto Comunione e Liberazione. Uno dei personaggi che ha voce in più momenti nel libro a cui do la parola lo dice, dice che quello che più premeva a loro, loro sono i peronisti, furono tra i primi gruppi che si avvicinarono a Comunione Liberazione. Loro, lui dice, Comunione e Liberazione era interessante per noi in quanto realtà organizzata che si identificava con il Papa Polacco, che si riferiva costantemente a lui e a lui aveva un accesso facile. Quindi in un certo senso Giovanni Paolo II è stato il punto di interesse che si è esteso anche a Comunione e Liberazione. Lei nel libro ha il duplice ruolo di scrittore e testimone. Come ha conosciuto Don Giussani e quale secondo lei è l'eredità che ha lasciato questo sacerdote al Sud America che è arrivato a fine giorni nostri? Sono due domande, quelle che mi fai pesanti, diciamo così. Come l'ho conosciuto? Io l'ho conosciuto negli anni Ottanta in azione, o meglio, ho conosciuto dei giovani che erano stati mobilitati da lui e attraverso di loro ho conosciuto il suo carisma. Poi l'ho conosciuto personalmente e con Comunione e Liberazione mi sono coinvolto. C'è poi quel momento di cui parlo in un capitolo del libro, o in più di un capitolo del libro, nel 1982 quando ebbi l'opportunità di accompagnarlo in uno dei primi viaggi in America Latina. Allora erano stati preparati sempre da Don Ricci un viaggio che aveva tre tappe, il Brasile, l'Argentina e il Cile. Io sostituì Don Ricci perché era, diciamo, la malattia che aveva, ebbe un peggioramento e non potevi viaggiare. Questo viaggio è una delle cose, per me è stata una delle cose importanti, credo anche per il movimento in America Latina perché in Argentina lasciò il segno. In Cile credo fosse la prima volta che Giussani andasse, quindi questi tre paesi, Brasile, Argentina, Cile, in pratica l'America del Sud, li visitò e potei vedere con i miei occhi l'impatto che lasciò. E anche io ho cercato di documentare, di seguire nel libro i tanti fili di questo arazzo che cominciava a comporsi e che aveva comunque sempre Don Giussani al centro. Poi direi la sua eredità è arrivata ai nostri giorni. Io la sintetizzerei così in poche parole dicendo che la sua eredità è soprattutto questa capacità di suscitare un interesse esistenziale verso il cristianesimo. Il resto di questa eredità l'ha ben definita il Papa Francisco in questo tempo ricevendo il movimento di comunione e liberazione in udienza. Lì ha parlato di genialità pedagogica e teologica di Don Giussani e di potenzialità, il Papa ha usato questa espressione, potenzialità del vostro carisma che è in gran parte da scoprire, quindi ha come ulteriormente allargato gli orizzonti. Io ringrazio Albert Metalli, grazie mille della disponibilità, del tempo e quindi invito a comprare il libro in Italia, in libreria e in editor online, ricordiamo il titolo, che era la promettida storia di una storia, pubblicato da Edizioni di Pagina. Grazie ancora, grazie ancora Albert e a presto. Buon lavoro. Grazie.